Ciao! Ciao! Nome? Giulia Magnese. Età? 17. Di dove sei? Roma. Roma. Che cos'è revenge porn? Quando una persona manda foto intime di un'altra persona senza il suo consenso. È una vendetta porno, diciamo, con uso di foto intime di un'altra persona. Hai mai subito revenge porn? No. Fortunatamente no. Conosci qualcuno che ha subito revenge porn? Non direttamente. Mi sono rivale delle voci. Che cosa ne pensi di revenge porn? Che fa schifo. Una cosa orribile. Che cosa ne pensi di chi fa revenge porn? Gente frustrata e senza coraggio. Gente crudele. Come raggiresti se subissi revenge porn? Rimarrei male, sono molto sensibile. Denuncerei subito. Cosa diresti a una vittima di revenge porn? Direi di non abbattersi ed andare a parlare con qualcuno di competente. La consolerei e le direi subito di denunciare. Come una persona potrebbe denunciare questo atto? Andando alla polizia. Andando alla polizia. Come si potrebbe educare i ragazzi a non fare revenge porn? Educando i ragazzi anche a scuola, su certe tematiche, fin da l'età giovane. Beh, bisognerebbe parlarne di più e cercando di non sminuire questa violenza. Vorresti mandare un messaggio alle vittime di revenge porn? Non abbatterti e ricordati che tu puoi fare quello che vuoi del tuo corpo. Sono le altre persone che devono chiedere il permesso sempre. Non abbattervi e denunciate, denunciate sempre. Mandateci un saluto. Ciao! Ciao!